Il circuito internazionale Napoli, la prima round della WSK Euro Series 2012 Guardate il protagonista della categoria principale, la KZ1 Nel settembre e nelle prossime tre round Abbiamo anche alcune altre categorie La mini, la KF2, la KF3 e la KZ2 per sicuramente Abbiamo per sicuramente il team B-REL con i due guidatori, Roberto Toninelli e Paolo De Conto Ci sono cambiato il turner Quindi Paolo De Conto ora sta usando l'enginio del BMW Roberto Toninelli invece va usare il BMW potente da TechSav Molti nomi molto importanti sotto la tenta del CRG Quindi abbiamo Jonathan Tonon, Mirko Torsellini L'altra parte abbiamo Davide Foret e anche Fabian Federer L'ultimo ganso della ultima finale della WSK Master Series Yannick Debrebander Formula K TM Con il turner TechSav Per sicuramente sarà uno dei protagonisti della WSK Euro Series Anno Kozlinski Anno Kozlinski, PCR TM Ha avuto una grande season in WSK Master Series Per sicuramente farà molto bene anche nella WSK Euro Series Prega Kart La nuova brand è migliora le sue performance Con Bass Lammers e Patrick Kayeck Quindi guardate questo team Il protagonista principale sarà per sicuramente Marco Ordigo Il vinto della WSK Master Series E i suoi amici Rick Dredzen con Tony Kart Vortex Grazie a tutti